Siamo parcheggiate qua a fare l'aperitivo Senti, scendi, 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 sali, sali, su, giù, mi fai un su, giù, su, senti come ti chiami? Claudia Claudia, simpaticissima, io poco fa ho intervistato un ragazzo che si chiamava Claudio, festeggia 40 anni, tu sei singola? No Non è già qua? No Che ci frega, non sa nessuno, rimane tra noi, tra me e te e il ragazzo dietro la telecamera, ti può interessare, lui è ricchissimo No Brava, brava, perché tu senti mentalmente, chi piace? Le cose di amore, solo sesso o solo soldi? Amore Brava, brava, quante bugie che sta raccontando? Comunque per il momento è tutto del DJ Carlone, la piccola intervista, la tua amica l'abbiamo persa E la sorella che non so doveva finire E tua sorella, siete ugualissime, leggermente più bassa, da dove arrivate? Bolzano Bolzano, mamma mia, che bello Bolzano, prossima volta, portami lo strudel, ok? Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio andare, questo video lo vedrai fra, forse domani, va bene domani? Domani lo vedrai su convento.it Lo vuoi i bigliettini? Sì Adesso te lo do Tirami un biglietto, tirami un biglietto, grazie che arriva il biglietto Eccolo qua Uuuu Applauso Ci vediamo più tardi La serata inizia fra poco, si mangia, poi si balla, fino alle ore 4 Su, giù, su, giù Con DJ Carlone da mezzanotte e mezza fino alle ore 3, 3, 30 Si ballerà la bella musica dagli anni 60 al 2017 Per cui c'è da divertirsi alla grande Oh 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 oh